Mi spiegate dove sta scritto che noi uomini siamo tutti bastardi senza un cuore? O dove sta scritto che non ci prendiamo cura dalla nostra lei? Dove sta scritto che non siamo dei figli che ogni mamma vorrebbe? Sai quanti ragazzi ci sono che ogni notte piangono, sprandino un lieto fine? O di quanti comunque continuano ad amare o perdonare nonostante il suo cuore sia già comunque di un altro? Sai quanti papà separati ci sono che tornano comunque a casa ogni sera che vorrebbero solamente un abbraccio? O di quanti si fingono freddi e senza sentimento solo per non apparire debole agli occhi del mondo? Io penso che quel ragazzo non è debole, anzi ha un cuore così grande è una forza della madonna che tu nemmeno te li meriti Tu che sei così superficiale da uscirtene con la scusa del messaggio che non hai sentito Mi sono addormentata, scusa, non ho sentito le chiamate Oggi che praticamente ci andiamo a dormire col telefonino Tu piuttosto te lo sei fatto un esame di coscienza E non ho sentito le chiamate